Buongiorno, mi chiamo Antonio Cella, sono specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Mi occupo prevalentemente di chirurgia estetica da oltre 25 anni e in particolar modo della chirurgia del volto e del seno. Per quanto riguarda il volto mi occupo di chirurgia dell'invecchiamento facciale, quindi lifting e le faroplastiche, mi occupo delle rinoplastiche, delle rinosettoplastiche e per quanto riguarda la chirurgia del seno di tutte quelle che sono le mastoplastiche.